Clima da stadio in tribunale con espulsione è accaduto a Kiev all'ex premier ucraino Yulia Timoshenko durante il processo a suo carico. La seduta era iniziata con una disputa dopo che il giudice ha deciso di limitare l'accesso delle telecamere all'udienza per impedire la trasmissione televisiva delle deposizioni dei testimoni. La Timoshenko ha accusato il magistrato di aver messo fine alla trasparenza del processo su ordine del presidente ucraino Viktor Yanukovic ed è stata espulsa dall'aula. I sostenitori della Timoshenko hanno accompagnato la decisione di sospendere la seduta al grido di vergogna. L'ex capo del governo avrebbe sottratto allo Stato oltre 250 milioni di euro quando comandava l'azienda pubblica che importa gas dalla Russia. Rischia dai 7 ai 10 anni di carcere.